che stai facendo niente guardo il mondo e scrivo un altro pezzo al piano Ah sì, me lo fai sentire? E questo di che parla? Pensavo che non abbiamo fotografie di no due insieme questo pezzo potrebbe essere come una foto che ci coglie in questo momento della nostra vita Mi piace la nostra foto Ti ci vedo Ci sono Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti